Ancora spari a Carbonara, quartiere alla periferia di Bari, almeno tre i colpi di arma da fuoco che sono stati fatti esplodere a due passi dalla centralissima piazza Umberto I, piena di persone per il concerto del gruppo musicale Terra Rosso organizzato nell'ambito del progetto Estate nel quarto municipio. Il fatto che poteva finire in una vera e propria tragedia è avvenuto davanti al civico 57 in prossimità della salumeria Landi. Non sono stati registrati invece al momento feriti. Dalle prime ricostruzioni l'agguato sarebbe stato compiuto da una persona a bordo di una moto che, dopo aver sparato senza andare a segno, sarebbe scappata e poi caduta dal veicolo e avrebbe proseguito la sua fuga a piedi. Sul posto sono intervenuti la polizia scientifica e la squadra mobile della questura di Bari, che hanno subito proceduto a isolare la zona per effettuare tutti i rilievi del caso. Le indagini ancora in corso puntano a far luce sull'accaduto e risalire all'autore del folle gesto, un altro episodio da condannare dopo l'ultima sparatoria, sempre a Carbonara, datata 5 giugno, quando un uomo di 51 anni è stato ferito alle gambe in stradella a Boezio.